Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha decretato lo stato di emergenza regionale a seguito dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio regionale nella sera di domenica 26 settembre. Alla giunta che si era riunita e inserata, l'assessore alla protezione civile Monia Monni ha illustrato la prima conta delle criticità finora segnalate. 72 comuni coinvolti con raffiche di vento superiori ai 100 km orari che hanno soffiato nell'Aretino, a Massacarrara, a Pisa e a Lucca. La pioggia è scesa copiosa e fitta con punte massime sulle Alpi Apuane 101 mm e a Capo Cecina 59 mm. Non è mancata neppure la grandine. Alla fine, in tutta la giornata, sono stati contati oltre 450 interventi da parte dei Vigi del Fuoco e 200 da volontari per rimuovere frane, rami, alberi dalle strade. Raccoglieremo tutte le dichiarazioni di danni che saranno presentate e documentate dai Comuni, ha detto Gianni, e valuteremo in base alla disponibilità finanziaria che arriverà dalla prossima variazione di bilancio. Sul riparto decideremo dopo novembre, una volta concluso il periodo più critico per le allerte e le piogge autunnali. Grazie. Grazie. Grazie.